Per se non c'è il posto E' quello che c'erano Sss Ma non avevo parlato della cosa più E' il mantello E' un super eroe E' un mantello Volante Chirà Volare Chira Super Stats Staaaaaaaat Devo dire mettono Attiva tutto Salve abbiamo bisogno di un'informazione E questa è la terza dimensione Ogni all'altro tempo Come è andato il corso di Pilates Sai, dovrei iscrivermi al Oh ho troppi fotoni Cercheremo un video Più tranquillo da visitare Buona serata a te e buon proseguimento Grazie